Sulla vicenda dell'impugnazione di alcuni articoli della finanziaria regionale 2016 da parte del Governo nazionale, in particolare di quelli che si occupano delle risorse dei comuni, interviene con una nota il Movimento La Base. Il Governo che impugna alcuni articoli della legge di stabilità regionale 2016 non è una sorpresa, almeno per gli addetti ai lavori che conoscono i limiti della competenza statale e regionale, scrive nella nota Fisarbao, Presidente La Base. Pensare a contenziosi fumosi mi sembra una cosa che un Governo regionale serio non possa permettersi. Meglio sarebbe provare a risolvere alla radice alcuni problemi che gli articoli impugnati volevano affrontare. Sul fronte della finanza degli enti locali, dopo l'accordo Stato-Regione del luglio 2014, ricorda Arbau, rimane in campo una proposta che i consigli regionali della base hanno avanzato in tempi non sospetti, fare diventare i comuni sardi a completa finanza regionale. Attualmente, ricorda Arbau, sono circa 300 milioni di euro che lo Stato trasferisce ai comuni sardi, mentre sono oltre 650 milioni di euro appartenenti ai sardi accantonati e trattenuti a Roma per abbattere il debito pubblico o per misure eccezionali. Con una compensazione a saldo zero per entrambi le parti, spiega il Presidente Arbau, i comuni sardi potrebbero ricevere i soldi dalla Regione, mandando in soffitto tutte quelle regole di controllo e monitoraggi statali che disturbano l'attività dei comuni. Ne risulterebbe un sistema coordinato di autogoverno che, senza chiedere trattamenti di favore, conclude Arbau, porterebbe vantaggi per tutti i soggetti interessati.